Musica Eccoci di nuovo assieme per il nostro appuntamento con Tele Belluno Agenda. Vediamo qualche proposta per mercoledì 20 marzo. Musica Cominciamo parlando dell'incontro che si terrà al Teatro Comunale di Belluno mercoledì 20 marzo alle ore 20 e 30 con fratel Enzo Bianchi che darà la sua testimonianza sul tema quale felicità, quale santità una riflessione alla luce di due documenti pontifici ossia le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium e Gaudate et Esultate. L'appuntamento è quindi alle ore 20 e 30 al Teatro Comunale di Belluno e tutta la cittadinanza è invitata appunto a questo incontro significativo. E adesso diamo delle anticipazioni per giovedì 21. Cominciamo parlando di una nuova mostra prevista all'insolita storia di Belluno dove si potranno ammirare le opere dell'artista Vico Calabrò. L'appuntamento è previsto per giovedì 21 marzo alle ore 19 appunto all'insolita storia di Belluno. Ed ora diamo un'anticipazione per venerdì 22 marzo. Parliamo adesso dell'incontro dal titolo Buono, Sano, Sostenibile. La via della longevità passa per casa tua. E' questo l'incontro proposto da Slow Food Belluno che si terrà venerdì 22 marzo alle ore 18 e 30 al Teatro del Centro Congressi Giovanni XXIII di Belluno. Per l'occasione ci sarà il celebre chef Vittorio Fusari, curatore con il professor Luigi Fontana del best seller La felicità e il sapore della salute. E con il dottor Bastianello Germanà, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Martino di Belluno. L'appuntamento quindi ha aperto tutta la popolazione per questo incontro particolare appunto collegato al tema della salute e della cucina. E noi abbiamo concluso così anche per oggi il nostro appuntamento con Tibi di Agenda. Arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.